Tu sai nel champion? Sì, sì, signore! Mi piace lo sport, essere tutti insieme, giocare, fare gol, vincere, stare tutti insieme. Lo sport mi dà quell'adrenalina che mi permette di vivere bene. È uno sport che dà veramente tanta importanza, soprattutto al benessere fisico e anche psicologico. Giocare anche con il bastone. Non ci sono limitazioni, basta avere la voglia di correre e mettersi in gioco. Matti per il calcio, dall'inizio del 2000 porta sui campi da gioco ragazzi con problemi psichiatrici o insufficienze mentali. Un progetto di WISP, dei Dipartimenti di Salute Mentale del Piemonte-Valle d'Aosta e dei Servizi Sociali del Comune di Torino. Una campagna condotta tra stadi e campi di periferia per annullare le barriere dei pregiudizi, le differenze tra chi viene considerato normale e chi no, perché a nessuno piace ricevere un gol. E quando si perde? Eh, ti giro, cioè, ti stai male, però fa parte del gioco. Se vinco va bene, ma se no gioco per divertirmi e basta. Aiutare un po' i ragazzi qua disabili. Perché sei più bravo? No, anch'io sono disabili, però un po' più esperto. Pensate che in soli 12 anni ho fatto più di 4700 partite, a livello amatoriale. E quante ne hai vinte? Eh, tante, tante. Adesso a memoria non le so perché non ho il quaderno dietro, ma ne ho vinte tante. La loro è una partita infinita, raccontata anche in un film e documentario che alterna le storie personali con le vicende sportive. Una sfida alla banalità della compassione da vincere insieme. Lo stare insieme li aiuta a comunque avere un minore utilizzo di farmaci e la socialità li porta comunque a stare meglio anche fisicamente e quindi vengono ridotte le ospedalizzazioni. Lo sport effettivamente fa bene e positivo per la socialità perché comunque nel momento di sport non ci sono le sigarette, non c'è il caffè, non ci sono queste cose qua e quindi anche correre dietro un pallone assieme a delle altre persone per un ora fa bene.